Bella raga Questa è quella che potrebbe essere l'ultima registrazione delle foglie dell'imperatore No, ho sbagliato No No Dove ho copiato di qua? No, di qua anche Andato Vedo arriva dove? No Di nuovo, di nuovo platforming E' un gioco platforming Ammetto che mi sta scendendo un po' il sonno Ah! Tra l'altro, piccolo aggiornamento Una delle cose che inizieranno a... Mi pionda di me Le cose che inizieranno a gennaio Insomma, se a cui tengo tantissimo C'è finito... In realtà ho iniziato questo discorso come se dev'essero cambiare un sacco di cose No Però... A gennaio Porto Siberia 2 Io... Io vi voglio Siberia Sono anche molto tentato di giocare il primo per i cazzi miei, devo essere onesto Però... Però... Ah! Cosa cosa? Sono molto felice di aver potuto farlo così Eh? Perché ora... Ehm... Il secondo Siberia è sicuro a gennaio Proprio... Cento per cento Anzi, molto presente è come finiamo questo Quindi... La prossima live Batman Con... Cyber... Buon Siberia Scusate di tempo Scusate di tempo Di allora Mentre io dobbiamo darci la mia Scusate di tempo E mi da non mi dance Tuo E' un'altra cosa Era una domenica mattina FERSI Io è un bevi Io sia bella Ci sono legato C'è poco da fuori Cos'è? C'è bella C'è tanto oh mio dio è la boss fight di crash e il papu papu comunque ritorneranno sempre di domenica mattina perché tutto l'amore del mondo le ho fatte di domenica mattina quelle del primo le facciamo anche per il secondo per il terzo e poi per il quarto li porto tutti ok oh mio dio oh mio dio isma 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 mi sta uccidando isma andata si l'ho fatta solo una volta più che quando l'ho fatta di domenica mattina poi mi aveva preso talmente tanto che l'ho fatto proprio tutta la domenica era tipo una live perenne che si alternava tipo l'avevo stoppata per pranzo ripresa dopo pranzo stoppata per merenda ripresa per merenda e poi anche ripresa dopo cena perché mi aveva preso quindi era tecnicamente doveva essere alternate dalle domeniche in realtà il gioco mi aveva conquistato completamente e quindi l'ho lasciato che bello che era minchia momo oscar i treni mio dio sto per piano e vi voglio siberia vi voglio siberia e via cazzo di gioco e poi non era nemmeno chissà quale capolavoro eh cioè aveva degli evidenti problemi però ero legato e mi aveva preso cazzo di sorrisetto stampato in faccia e non va via eh sono uno stupido e cosa abbiamo quanta zona è andata ok va bene tu hai una mazzocca e quindi va bene va bene ok ok a che ci penso non credimi perché ci ho pensato ora io io sto per fare una rima di quelle meravigliose però ehm non andava bene io non ho mai portato un gioco di topolino eh ci penso tu direi non c'è una piante pet però io non ho mai portato un gioco di topolino e non vengono ma 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 mi vengono d non vuoi ok buono andato quindi è probabile che in questo cassa di anno è 2023 io porto un gioco di topolino so anche quale ho una mezza idea lo sto a vedere se riesco a giocarlo bene perché se si si è rassicurato ed è un cazzo di giocone cioè ho giocato quando ero piccolo non l'avevo mai finito ma è qualcosa di veramente cazzotto è veramente bello io ho qualche anno è bello come una stronzata però è veramente qualità hey, io solo resento tu niente personale, ti capisci cosa facciamo adesso? ok no, ho fame però ma di brutto ma nel gioco il gioco non l'abbiamo visto a mutarsi in gatto no, tristissimo ma un buco di tama eh, niente ok perdonami un attimo aschi ok magari devi mettere anche questa andiamo avanti ok qual'è il piano? ok, togli la cascata va bene mi sapevo io sentendo male alla fame la roba è stannissimo di boh incompensibile ma tutto per riuscire a rimediare io scusa per gli smr viene un richiesto non mi piace molto poco ok e qual'è il piano? ah, devo colpire questi ok è andato ok e vabbè no ok mi sono fatto del male è un pochino è un pochino non data ok 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 quindi non mi... non mi deve nulla ok no dio ora è uno di quelli a fare per prigionare la vita almeno un minimo e va vabbè devo solo correre posso farcela tecnicamente il problema è che è troppo cazzo veloce quindi a meno che io non lo tagli saltando cosa che posso fare quindi è buono bello non l'altro non l'altro non non l'altro non l'altro non l'altro non l'altro me ne sono due ok questo cazzo di velo è gigante che è oppure 70 monete penso proprio di più di 8 però premete il tasto non l'altro ok ok non l'altro non l'altro non l'altro non l'altro non l'altro non l'altro quindi attacca eh attacca sto cazzo ok checkpoint che si dov puoi vende qui vende non l'altro non l'altro questo per uno aspetta le grandi cose ok 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 voglio adesso me l'ho preso o meno ok una me l'ho messa perfetto ok devo rientrare in questa camera infernale via 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 meh ah oh cristo santo però è troppo irritante cristo santo troppo non lo sto sopportando più non lo sopporto più via devi darmi un attimo perchè non ho più vita e che cazzo cristo parca puttana che cazzo non è possibile che cazzo sta facendo venire il cazzo di nervoso che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo qui no perché no perché manca questo ah di dopo me a tempo no aspetta sono stupido dai ok ah ma tu ci sei ancora penso fossi andato mi auguro poco dovrebbe essere la parte finale pensavo fossi andato via ammetto ok vabbè ma Gesù veramente una persona irrispettosa nei miei confronti non è possibile fanculo se la mettessi così ok ok dai dimmi che qui si è una scandeisma e poi è tutto finito ok cosco con questa potenza io mi trasformo mi 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 no non sì mi ok 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 vai andata ho vinto ho vinto ho vinto poso il joystick ho vinto oh mio dio inquietantissimo cusco umano non 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 quindi 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 niente non 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 ma ecco Ah c'è l'altro Ok Ora il gioco è veramente finito Quindi io finisco la registrazione così